Ciao ragazzi qui è Marchettino e oggi ci facciamo una leggera chiacchierata tra domande e risposte prima di tutto io mi auguro che voi stiate bene e soprattutto a casa io sono diverse settimane che sono qui isolato a casa e più di accendere la Abarth fastidire un po' i vicini e fare un metro avanti un metro indietro beh questa è la mia esperienza di guida delle ultime settimane però la cosa positiva è che io penso che da quando la patente non ho mai speso così poco in un mese tra benzina e autostrada un paio di giorni fa attraverso le mie piattaforme social vi ho proposto un Q&A quindi domande e risposte e ragazzi vi ricordo di seguirmi specialmente sulla mia pagina Instagram perché è lì dove pubblico spesso contenuti che riguardano la mia sfera privata backstage, video in arrivo e così via nelle prossime settimane caricherò un altro paio di test drive e vi ricordo che questi video che ho girato a Monaco sono state fatte prima dell'attuazione del decreto di zona rossa attualmente anche Francia e principato di Monaco sono zona rossa e sostanzialmente tutti i paesi si sono blindati e io sono qui a casa finché posso cercherò di creare contenuti per intrattenervi allora la maggior parte di domande sono arrivate tramite il profilo di Instagram e adesso man mano che leggo le vostre domande vi rispondo Diego mi chiede qual è la tua BMW preferita oltre all'M3 l'M3 in tutte le sue salse penso sia la mia BMW preferita E46, E30, E36, E92 sono tutte pazzesche da guidare quindi escludendo l'M3 io penso proprio che la mia BMW preferita è l'M2 Competition perché a mio avviso rappresenta la vera essenza e filosofia delle M del passato un'auto molto divertente, relativamente poco filtrata e che offre delle grandi sensazioni di guida e doti dinamiche quindi se ora come ora dovessi comprare un'altra BMW sarebbe proprio lei, col camion manuale continuiamo perché Valerio mi chiede se potessi comprare una sola auto con budget illimitato che cosa prenderesti? beh Valerio dovresti saperlo per me la Ferrari F40 è la macchina più incredibile di tutti i tempi escludendo la Formula 1, l'F40 è stata la macchina più emozionante che io abbia mai guidato ecco, mi ho fatto venire gli occhi lucidi Emanuele invece mi chiede qualche indizio sulla prossima auto? beh è una domanda che in tanti mi avete fatto e dunque diciamo che la macchina l'ho comprata sì ragazzi, l'erede dell'M3 l'ho acquistata purtroppo data questa spiacevole situazione in cui siamo tutti isolati a casa la macchina devo ritirarla quindi non vedo l'ora che si sblocchi questa situazione in modo tale da andare a prendere la macchina e svelarvela che cosa vi posso dire di più? beh diciamo che le premesse ci sono perché il motore è aspirato e supera gli 8000 giri basta, non vi dico più nulla Davide mi chiede la sostituta dell'M3 sarà tedesca o qualcos'altro? è italiana Milo mi chiede hai un lavoro o campi solo con YouTube? YouTube è nato per me come gioco, come passatempo per poi trasformarsi in una cosa veramente grande non mi sarei mai aspettato di arrivare dove sono oggi in ogni caso non ho solamente YouTube ma lavoro sempre in ambito automotive Diego mi chiede anzi mi fa due domande qual è stato il tuo primo mezzo motore? ci sono seduto qui dentro la 500 Abarth è la mia prima macchina ce l'ho da tantissimo tempo questa macchina mi diverte così tanto mi fa riaffiorare così tanti ricordi delle mie prime esperienze in macchina non fate strani pensieri che per me questa è una macchina che tarro per sempre poi la sua seconda domanda è stata la tua massima velocità raggiunta in auto allora la velocità massima che io ho raggiunto è stato a bordo passeggero su una Lamborghini Murcielago LP640 nell'autodromo di Monza lì nel mega rettilineo sono riuscito a raggiungere i 302 km orari mentre se intendiamo velocità massima guidando non me lo ricordo esattamente ho raggiunto più volte i 290 km orari circa con Jaguar F-Type la Nissan GT-R e così via Christian invece mi chiede quando acquisterai una Porsche? beh Christian io non sono un grande fanatico di Porsche se potessi permettermele mi piacerebbe molto avere una Cayman GT4 o anche una Porsche GT3 però diciamo che se dovessi fare la follia e comprarmi una Porsche probabilmente la scelta ricadrebbe sulla Carrera GT che come quotazioni è proprio un filino fuori budget però per me la Carrera GT sarebbe il mio sogno proibito Lorenzo mi chiede se avessi un budget illimitato cosa metteresti nel tuo garage? questa è una bella domanda sicuramente le prime che mi vengono in mente sono la Ferrari 430 Scuderia Ferrari Enzo poi direi Pagani Zonda F Roadster Mercedes classe G da utilizzare tutti i giorni ovviamente Ferrari F40 penso proprio che aggiungerei anche Porsche Carrera GT e Bugatti Veyron Nicolas mi chiede se potessi comprare una macchina presa in prestito da rispettivo proprietario per il video quale sarebbe? beh sicuramente chiederei a Baldini di lasciarmi per sempre la sua Ferrari F40 che ho provato qualche anno fa e rimanendo in tema Tommaso mi aveva chiesto se in futuro avrei fatto altri video con il Prez siamo sempre in contatto il problema è che lui è molto occupato con i suoi impegni di lavoro anch'io e quindi facciamo sempre fatica a trovare del tempo libero per vederci e fare un po' di contenuti insieme io ogni volta che devo andare giù a Roma devo per forza prendere il treno e fare tutto in giornata risulta essere piuttosto difficile quindi in futuro chi lo sa mi piacerebbe molto far provare a Stefano la macchina che ho comprato Alessandro mi chiede pensi che valga ancora la pena al giorno d'oggi acquistare un'auto nuova a prezzo pieno? a mio avviso no oggigiorno comprare macchine nuove significa fare un bagno di sangue le macchine stanno diventando sempre più costose con sempre meno contenuti e sempre più costruite a risparmio vi ho chiesto del Q&A sotto la foto della Maserati Gran Turismo e se ho provato l'anno scorso e un po' di voi mi avete chiesto se comprerò ormai una Gran Turismo sono pazzesco molto confortevole però onestamente non è il mio genere di macchina la Gran Turismo come dice il nome è una Gran Turismo è una macchina fatta più per viaggiare comodi che viaggiare veloci sono ancora giovane non sono un ragazzo da Gran Turismo Mr. Cash mi chiede se dovessi comprare un'AMG quale comprerei? beh la mia scelta ricadrebbe indubbiamente sulla C63 AMG Coupé io adoro sia la versione W204 quindi quella con quel glorioso motore aspirato sia la versione più nuova la W205 con il motore biturbo ho avuto l'occasione di provarlo un annetto fa e mi è piaciuta veramente tanto qualsiasi scelta C63 secondo me si cade in piedi cinese romantico ragazzi ne avete di fantasia con i nickname mi chiede prenderesti una Porsche 997S o 4S o è meglio aspettare per prendere una 991 Mk1 possibilmente manuale acquistare una 911 aspirata con cambio manuale anche qui cadi sempre in piedi molto interessante la 991 Mk1 perché si tratta dell'ultima aspirata e la copiata dell'ultimo aspirato con cambio manuale secondo me collezionisticamente parlando in futuro potrebbe regalare soddisfazioni Lucio mi chiede hai mai pensato di voler acquistare una macchina tipo una BMW Isetta tanto per avercela no Lucio Bruno invece mi chiede se ho mai considerato la Gran Turismo o un M4 al posto dell'M3 per la Gran Turismo ti ho già risposto invece per l'M4 ho dato per curiosità un'occhiata alle quotazioni ieri pomeriggio e devo dire che sono in caduta libera per me per i soldi che costa adesso l'M4 è una gran macchina che però a me non mi interessa arrivando ad un M3 92 non farei mai cambio con un M4 Vincenzo mi chiede che cosa penso di un mio collega su HB150 beh io team lo conosco di persona nell'arco dell'anno ci vediamo sempre eventi in giro per il mondo abbiamo stima reciproca e lo ammiro per il modo in cui è riuscito ad arrivare a certi traguardi non solo per quanto riguarda YouTube che anche per quanto riguarda il suo garage è una collezione che fa veramente spavento io nel mio piccolo sono molto contento di avere l'Abarth l'S2000 e il rimpiazzo dell'M3 che arriverà a breve coronavirus permettendo Dario mi chiede come sono arrivato a guidare auto di altissimo livello beh se andate a vedere i video di un po' di anni fa sul canale all'inizio facevo video solamente al sound delle macchine non mi riprendevo non facevo vlog l'unico protagonista era la macchina poi iniziando a filmarmi a fare vlog tutto è cambiato perché ho voluto iniziare a metterci la faccia raccontare le mie esperienze soprattutto iniziare a fare anche test drive all'inizio non era facile e se oggi sono arrivato qui grazie anche alla tanta fiducia delle case automobilistiche e dei collezionisti privati che si fidano ad appunto da lasciarmi la loro macchina per guidarla e raccontarla a me ogni tanto capita di chiedere alle case automobilistiche o anche ai privati delle macchine e loro mi dicono no scordatelo quindi non è sempre così semplice trovare anche le macchine per recensirle e portarle sul canale Baba mi chiede qual è il mezzo con cui mi sono trovato meglio questa non è una domanda facile perché ho provato tante macchine e non saprei dirti qual è la macchina migliore che ho provato in assoluto se diciamo prestazionalmente parlando delle macchine stradali forse quella con cui mi sono trovato meglio è la dall'ara stradale invece se parliamo di mezzi con cui mi sono trovato meglio per quanto riguarda il comfort beh indubbiamente è l'ultima generazione di Rolls Royce Phantom è praticamente il salottino della regina d'Inghilterra su ruote Compa invece mi chiede quante auto ho avuto e quale desiderai più di tutto beh come avete capito la Ferrari F40 è il sogno della mia vita non ho avuto tante macchine la Abarth Nissan GT-R BMW M3 l'Onda S2000 la seconda S2000 incidentata e a breve arriverà anche la sostituta dell'M3 non solo auto perché qui Edward mi chiede degli orologi come voi sapete sono anche un appassionato di orologi mi chiede quanti orologi ho e quanti ne ho avuti e quali sono gli orologi dei miei sogni attualmente ho circa una dozzina di orologi nella mia collezione non li faccio vedere tutti nei miei video perché alcuni rimangono quasi sempre in cassetta alcuni sono stati acquistati puramente per un fine di investimento dunque negli ultimi anni ho venduto un paio di Daytona uno tutto acciaio uno acciaio oro e anche un GMT acciaio oro per il resto preferisco tenerli gli orologi che venderli invece l'orologio dei miei sogni beh se dovesse avere un solo orologio da tenere per tutta la vita io penso proprio che sarebbe il Rolex Daytona referenza 6265 tutto in oro giallo io per quell'orologio lì vado matto ma ahimè le quotazioni sono salite veramente tanto negli ultimi anni qualche anno fa stavo per comprare un 6265 tutto acciaio e mi sono detto ma sì aspettiamo lo prendo un po' più avanti da quando ho detto quella frase a quando mi sono deciso per acquistarlo le quotazioni sono raddoppiate e quindi 6265 ti saluto e rimarrai forse un sogno parlando sempre di orologi Jacopo mi chiede perché non parlo della mia collezione in realtà ho fatto un paio di post sui miei social però devo dire che non tutti recepiscono la passione degli orologi perché quelle volte che ho pubblicato gli orologi in tanti pensavano che volessi farlo solamente per tirarmela che non è vero penso che più avanti tenderò semplicemente a tenere l'orologio al polso facendolo vedere da appassionato agli altri appassionati quando provo le macchine tornando a parlare di macchine Filippo mi chiede se oltre all'S2000 sto cambiando il wrap per l'Abar dunque l'S2000 come sapete in questo momento è in carrozzeria perché la sto facendo riverniciare completamente carrozzeria, cerchi e pinze dei freni invece per quanto riguarda l'Abar sono tentato di cambiare wrap però onestamente non so ancora come ci sto pensando Domenico mi chiede se ho mai pensato di provare una Porsche 964 ho un amico che ha una 964 Turbo e con la bella stagione e senza virus per strada spero proprio di portarvela sul canale Giulio mi chiede fra un S5 Coupé e una TTS cosa sceglierei? Allora l'S5 Coupé l'ho provata c'è sia nella variante V8 aspirato che V6 con il compressore forse tra le due sceglierei la TTS perché la trovo un po' più piccola, compatta l'S5 è grossa grossa e pesante Luigi mi chiede qual è la mia auto inglese preferita azzarderei con l'Aston Martin DBS col cambio manuale io penso che questa sia una delle Aston esteticamente parlando più belle mai fatte è la coppia di V12 aspirato e il cambio manuale per me è il top Gianni mi chiede farei altri progetti con macchine come sto facendo adesso con l'Onda S2000? sì, ci stavo ragionando con ebay data la situazione penso che quest'anno non ne farò però forse in futuro potrei portare sul canale un'altra project car prima speriamo di finire l'S2000 perché è un lavoro dietro l'altro Giovanni mi chiede cosa ne penso della nuova Alpine e se l'ho mai guidata? qualche minuto fa vi ho fatto il discorso che non sempre mi vengono date le auto in prova io l'Alpine l'ho chiesto direttamente ad Alpine Italia ho visto che loro hanno dato in prestito la loro macchina stampa ha tanti influencer e giornalisti sono andato anche alla loro sede di Milano per parlarci e ahimè devo dire che Alpine Italia ha la puzza sotto al naso quindi spero proprio di trovare un privato che me la possa lasciare per fare un video Mattia mi chiede se ho mai pensato di acquistare una GT86 una BRZ convertendo la turbo al posto dell'S2000 prima di acquistare l'S2000 come project car ho seriamente considerato la GT86 però era da tempo che avevo il pallino del motore VTEC dell'aspirato che tira oltre 9.000 giri e quindi ho voluto a tutti i costi prendere un S2000 Dario mi chiede una sola auto in garage da usare sempre e in qualsiasi situazione? beh Dario l'ho avuta si trattava dell'M3 92 Vincenzo mi chiede se ho mai avuto qualche inconveniente mentre stavo provando un'auto? beh sì l'unico incidente che ho fatto si trattava di quando ho malamente chiuso il cofano della Ferrari 458 speciale rompendolo grazie per avermelo ricordato Circle of Life mi chiede F430 manuale o 430 scuderia? questa è una bella domanda sono entrambe favolose ma forse mi azzarderei dicendo 430 scuderia perché il cambio F1 della scuderia è uno dei migliori cambi se non il migliore cambio che io abbia mai provato un cambio molto veloce con cambiate molto secche brusche ti dà proprio l'idea di guidare una macchina da corsa F40 a parte la 430 scuderia è il sogno quello magari un po' più realizzabile guardando un po' più avanti nel futuro dalle 4 alle due ruote Kahit mi chiede se oltre alle macchine mi appassionano le moto a dire il vero no non sono mai stato appassionato di moto in generale non ho mai avuto interesse nel volere il motorino e poi la moto Lolo mi chiede cosa penso del tuning in Italia? parlando di tuning si apre un mondo che può avere diverse sfumature io il tuning che concepisco io può essere cambiare lo scarico i cerchi poi si può passare anche al tuning più pesante quello fatto da body kit stereo che ti sfondano i timpani ecco quel tipo di tuning lì a me non piace per nulla io come tuning concepisco le modifiche che possono avere più senso sulla macchina senza andare a stravolgere l'estetica o la sua essenza Bernabeu mi dice distanziali sì o distanziali no? io ti dico di sì a me piacciono ovviamente non troppo vistosi Antonio mi chiede se mi manca l'M3 beh indubbiamente sì mi manca Acqui mi chiede qual è l'auto che ho provato fino a questo momento e che mi è piaciuta di più in assoluto se parliamo di stradale l'F40 se parliamo di solo pista beh la Formula 1 Spara mi chiede cosa penso della nuova Gemera? allora io non sono un grande appassionato di Koenigsegg conosco diverse persone che attualmente hanno o hanno avuto una Koenigsegg e quasi tutti me ne hanno parlato male dicendo che qualitativamente parlando non sono ben costruite che sono macchine piuttosto inaffidabili però trovo molto interessante e affascinante la Gemera perché qui Christian von Koenigsegg ha creato una nuova categoria quelle delle Hyper GT le Gran Turismo con prestazioni da Hypercar Nicolas mi chiede se porto ora una Skyland sul canale e ti dico beh perché no bisogna solo trovarla Giuseppe mi chiede qual è l'auto che mi ha regalato maggiore emozioni fino adesso beh indubbiamente la Formula 1 però parlando anche di macchine stradali c'è l'F40 e anche la 4GT guidata durante la 24 ore di Le Mans sono tutte esperienze che non mi dimenticherò mai Hamza mi chiede perché in Italia non possono essere montati body kit tipo Liberty Walk e Men's Suri Brabus e perché non si possono frappare le auto frappare la propria macchina si può fare anche riverniciarla sul libretto non è riportato il colore quindi questa è una modifica che si può fare senza problemi per quanto riguarda i body kit non è possibile andare ad allargare la carreggiata della macchina o le dimensioni rispetto a quelle riportate sul libretto quindi ecco perché in Italia non si vedono questi tipi di body kit Riccardo mi chiede come è un'auto un'auto con la guida a destra beh non ci vedo nulla di problematico bisogna solo stare un po' più attenti quando si fa i sorpassi perché avendo la posizione di guida dall'altro l'auto non riesce ad avere una visuale chiara di quello che c'è davanti quindi è solo questione di abitudine Christian mi chiede se dovessi scegliere tra un'auto con molta accelerazione e un'auto con molta velocità massima quale sceglierai? beh indubbiamente una macchina con molta accelerazione perché dalla velocità massima onestamente tra manti stradali che fanno schifo auto velox la velocità massima è un fattore veramente inutile quindi io prediligo l'accelerazione Simone mi chiedo cosa penso della 355 Challenge? beh penso che è una macchina fantastica con un sound da pelle d'oca quella macchina lì con lo scarico dritto suona come una Formula 1 quel motore a 5 valvole ha veramente un grosso potenziale in giro per il mondo ci sono persone che hanno convertito ufficialmente in Ferrari le proprie Challenge in macchine stradali beh deve essere tanta roba guidare una macchina andata per la pista e poi giaci tranquillamente per strada Gabriele mi chiede dei progetti per il futuro beh sicuramente continuerò a creare contenuti e a intrattenervi sulle mie piattaforme social non vi nascondo che nel corso degli anni mi sono arrivate diverse proposte e provini per provare a entrare nel mondo della tv non si è concretizzata ancora nulla però nel futuro chissà io sicuramente continuerò a spingere con internet perché dopo tutto internet non è la tv del futuro è la tv del presente ormai la gente passa più tempo davanti allo schermo del proprio pc dal proprio telefono che davanti alla televisione Marco mi chiede qual è la strada più bella in cui io ho mai guidato in Europa e ovviamente con che mezzo mi reputo fortunato perché in tutti questi anni ho macchinato veramente tanti chilometri ho visto strade stupende luoghi incantevoli e strade che mi hanno lasciato il segno posso dire che mi è piaciuto molto fare il viaggio per Monaco passando per la route Napoleon con la Nissan GTR insieme ad un gruppo di amici lì ci siamo divertiti veramente tanto poi un'altra strada veramente notevole è il passo Jau sulle Dolomiti con la GTR ho inseguito due pagani Zonda e mamma mia c'è ancora il sound di quel V12 che mi orecchieggia qui tra le orecchie saimirx mi chiede auto preferita tedesca per me la mia tedesca preferita è indubbiamente la Porsche Carrera GT Pietro mi chiede che prima auto sportiva consiglieresti di acquistare beh è tutto relativo dipende dal budget Pietro senza andare a spendere un patrimonio come prima macchina sportiva ti consiglio di andare a vedere il video che ho caricato un paio di settimane fa che riguarda le trazioni posteriori con un budget di massimo 15.000 euro bene ragazzi mi serve un bicchiere d'acqua perché ho la gola un po' secca ma ho risposto a tutte le domande che mi avete fatto era da un bel pezzo che non facevamo un Q&A una chiacchierata veramente lunga quello che vi posso dire in questo momento è teniamo duro questa situazione si risolverà io auspico al più presto possibile io come tutti voi sono sicuro che non vedete l'ora di prendere la macchina uscire andare a fare una bella scannata io comunque sia nelle prossime settimane continuerò a caricare regolarmente i contenuti su tutte le mie piattaforme social ragazzi se vi è piaciuto questo video mettete like iscrivetevi che a me ne siete ancora fatta e come sempre grazie per la visione ciao 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 ciao